Buonasera e bentrovati a questa edizione straordinaria del TGZERO per darvi conto di quello che sta accadendo in queste ore. Siamo già in collegamento e diamo subito la linea al nostro inviato Riccardo Sisa, che si trova sul posto e ci potrà spiegare cosa. È venuto precisamente qual è la situazione in questo momento, quanto. Dobbiamo ancora aspettare chi ha causato l'incidente, dove si trovano adesso le persone, quanti dopo la vicenda sono salvi, cosa? Accadrà nelle prossime ore qualche informazione dettagliata, ogni tipo di ipotesi attendibile, tutti i possibili colpevoli, come sono riusciti ad incastrarli, chi è al corrente del fatto, quando si avrà notizie più certe, perché la situazione è bloccata, cosa sta succedendo in diretta, diretta? Cosa ci dicono gli esperti esperti? E quanti sono coinvolti? E quant'ora noi dobbiamo aspettare per sapere cosa sta succedendo in diretta, diretta? Cosa ci dicono gli esperti esperti? E quanti sono coinvolti? Ma soprattutto che dice il PD? 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 Il PD? Il PD si schiera a destra. Il PD si schiera a destra e il movimento è sexy, vai! Il movimento è sexy. Cambia la legisla tu, vai col bravo, cambia la legisla tu, no, col bravo. Il movimento è sexy, lasciate andare, bravo, è sexy. Ecco, allora, libanese e Afghanistan, così, vedi, attenzione tra la NATO, pure tu, pure tu, sì, tra la NATO, va, bravo, c'è tensione con la Russia, così, le donne così, con la Russia, con la Russia, gli uomini, vai, attenzione tra la NATO, vai, tra la NATO, tra la NATO, le donne, c'è tensione con la Russia, capilla qual è, bravo, che succede, bomba, ci siamo allora, un, due, tre, vai, cosa sta succedendo in diretta, diretta, cosa ci dicono gli esperti? E quanti sono coinvolti? Vai ragazzi, vai ragazzi, vai, cosa sta succedendo in diretta, diretta, cosa ci dicono gli esperti? E quanti sono coinvolti? Ma soprattutto che dice il piedi in piedi, 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 in pied Cambia la legisla, bravo, cambia la legisla, tu ne sai, è il movimento e i sessi, ragazzi, non ci pensiamo più, vai, allora, libanese e afghanistan, vai, pesa, attenzione tra la Nato, vai, tra la Nato, tra la Nato, c'è attenzione con la Russia, capito, con la Russia, con la Russia, con la Russia, gli uomini indietro, attenzione tra la Nato, scavato, scavato, tra la Nato, vai, c'è attenzione con la Russia, bravo, con la Russia, che succede? Non ci pensava, un, due, tre, ma cosa sta succedendo in diretta? Cosa ci dicono gli esperti? E quanti sono? E quant' ancora noi dobbiamo aspettare per sapere che queste sono le ultime notizie?